Io sono parte di una squadra e la squadra mi paga per indossare la loro maglietta e essere parte della squadra e di avere in marchio la squadra Ok, è della squadra per cui adesso fai il torneo Sì esatto, sono i Basilisk e in più ovviamente il mio sponsor Red Bull, quindi faccio parte di Red Bull a 5 anni mi sembra E mi dicevi che generalmente sia manager, ma tu non ce l'hai Io no, non ho un manager personale Nel caso degli sport, i prize money sono la maggior parte? Sono una piccola parte? Per me personalmente sono stati, la maggior parte viene dai prize money Poi ovviamente ho anche lo stipendio da sponsor, team eccetera eccetera Però penso che a livello parecchio alto, almeno su Starcraft, la maggior parte dei soldi vengano da Montepremium O vinci tornei o fai parecchio di conto tuo dai social, streaming, YouTube eccetera eccetera E infatti questa è un'altra cosa, per guadagnare molti diventano dei creator di tutti i fatti Tu come gestisci questa cosa? Voglio essere conosciuto perché vinco, non perché sono bravo a parlare o perché faccio buoni contenuti